È un tema che tantissimi comuni nella nostra zona stanno affrontando in questi ultimi mesi. Il perché, quali sono i vantaggi e quindi di cosa si parla? Allora, un piccolo escluso. Questo progetto nasce dalla comunità europea ed è destinato ad abbattere le emissioni clima alteranti. Purtroppo, già dopo il Covid, abbiamo avuto i primi aumenti e i costi energetici sono aumentati per motivazioni speculative. Successivamente poi è arrivata la guerra e diciamo che il fattore energia è diventato qualcosa di realmente importante nei costi di una famiglia. E oltretutto non è più così scontata l'energia, come abbiamo visto la fatica anche di riparire il gas e comunque va affrontato in una maniera diversa. Ci siamo poi trovati, che cosa? Ci siamo trovati una legge già pronta anche a livello italiano che è quella della comunità energetica. Questa comunità energetica dà l'opportunità di produrre in loco quella che è quanto più possibile la necessità del loco. Quindi ad Albino produciamo la corrente che Albino ha bisogno di utilizzare e il fatto di poterla condividere è qualcosa di veramente dirompente in questo scenario. Perché io mi doto di un impianto fotovoltaico, l'eccedenza della mia produzione è quella che non riesco ad autoconsumare, la immetto in rete ma la condivido con la comunità di Albino. Così facendo viene poi erogato un incentivo che viene stabilito di ora in ora, un incentivo di 11,8 centesimi al kilowattora e questo finirà poi sul conto corrente della comunità energetica e successivamente questo importo che sarà piuttosto che cospicuo verrà condiviso con i vari componenti della comunità che sono di due tipi. C'è il prosumer, ovvero la famiglia, il cittadino, la società che si dota di un impianto fotovoltaico e che nel contempo se l'auto produce, l'auto consuma e immette l'eccedenza in rete e il consumer. Il consumer è un semplice cittadino che per svariato numero di motivazioni non ha la possibilità di produrre energia ma aiuta la comunità energetica a raggiungere il massimo possibile di incentivo da parte del GSE. Quindi è anche il semplice cittadino determinante per il successo della comunità energetica. La seconda serata questa ad Albino, la prima come è andata? Molto interesse? Allora già dalla prima serata abbiamo avuto un grosso riscontro da parte della cittadinanza e ovviamente l'opportunità di ripeterla per il semplice motivo che la comunità energetica deve partire comunque con un certo vigore anche per poter partecipare al bando di Regione Lombardia che sovvenziona in modo abbastanza sostanzioso proprio la costituzione della comunità energetica pagando quelle che sono le spese di progettazione e di costituzione della stessa e per far questo ovviamente bisogna produrre un progetto d'insieme che abbia determinate caratteristiche tra cui anche quella di un certo seguito da parte della cittadinanza. Invece questa seconda serata su cosa avete puntato? Allora di fatto dal punto di vista della spiegazione sarà una replica comunque della prima serata anche perché diversamente da quella abbiamo chiesto gli accrediti alle persone in modo tale da conoscerle già anticipatamente e di avere anche la certezza di un certo numero di partecipanti quindi saranno comunque cittadini nuovi che si affacciano per la prima volta alla comunità energetica e che avranno bisogno di essere accompagnati da noi nel capire proprio quali sono le opportunità che la stessa offre. Quali sono i vantaggi per invogliare anche la gente di Albino a partecipare? Il vantaggio è un risparmio nell'immediato per chi è prosumer di un 20-25% di abbattimento dei costi energetici anche perché autoproducendosi corrente hanno l'opportunità di autoutilizzarla e autoconsumarla. Ovviamente poi l'eccedenza ed è lì la novità non solo verrà pagata sul prezzo nazionale unico del momento dell'ora dove verrà fatto il check dal GSE ma riceverà anche un incentivo. Questo incentivo in grossa parte andrà poi nelle tasche dei produttori. Siamo con il sindaco Fabio Terzi, una serata importante. Cosa vuol dire fare comunità? Ancora una volta lo si dimostra con una sala piena alle spalle. Sì, ecco, non mi aspettavo una seconda serata ancora così ricca di gente. Abbiamo sul tema delle comunità energetiche e rinnovabili fatto già una prima serata nel mese di dicembre in cui avevano partecipato davvero molte persone, molti albinesi. Questa è una seconda serata di approfondimento e sinceramente sono davvero molto soddisfatto per vedere ancora il nostro auditorium, non dico cremito, ma con un buon numero di partecipanti. Come ho sempre detto, ecco, quello delle comunità energetiche e rinnovabili è una grande opportunità per tutti noi, per il singolo cittadino, per la famiglia, per le imprese, per gli artigiani, per i commercianti. Ecco, in un momento in cui abbiamo, lo sappiamo tutti, i costi energetici sono lievitati, c'è la questione ambientale, il clima. Ecco, fare comunità energetica vuol dire dare una risposta a tutte queste problematiche. Far parte di una comunità energetica ha innanzitutto un risvolto di tipo economico, vuol dire portare benefici alla bolletta, un risparmio alla bolletta, vuol dire portare risorse all'interno della comunità energetica e implementare quindi quelli che sono i parchi fotovoltaici, ma poi vuol dire anche rispettare l'ambiente, vuol dire dare una mano all'ambiente e dare una mano alla terra. Questi sono i due motivi principali per cui, chiaramente, il nostro invito come amministrazione comunale è quello di aderire alle comunità energetiche. Il Comune di Albino si è subito attivato, ha avviato un percorso, che sarà sicuramente lungo, ma era importante cominciare, in una fase questa che è ancora interlocutoria di ricognizione, per capire quali interessi può, tra la popolazione ma anche tra le imprese, suscitare questo tema delle comunità energetiche. Io penso che dopo questa seconda serata ce ne saranno delle altre, siamo in attesa di quelli che sono i decreti attuativi e che la norma sia molto più chiara. Ma non bisognava comunque rimanere indietro, chi ha tempo non aspetta il tempo e quindi siamo subito messi proprio in moto per portare avanti un discorso dove Albino, dove il Comune di Albino vuole essere protagonista all'interno di un'eventuale futura comunità energetica rinnovabile. Sia chiaro, nessuno di voi deve dare soldi al suo vicino di casa o viceversa, non c'è nessun scambio di soldi. Il GSE fa i controlli orari tra produzione energetica ed energia autoconsumata all'interno della comunità energetica e in funzione di questo emetterà per 20 anni e per ogni fascia oraria un incentivo che finirà dove? Sul conto corrente della comunità energetica e poi verrà ridistribuito a voi. Quindi vi darà un abbassamento del costo della vostra fattura. Oltre al fatto che chi avrà un impianto fotovoltaico da subito si troverà dei benefici e da subito inizierà a risparmiare. Perché? Perché il sole non viene pagato, l'energia ve la autoproducete, ve la autoconsumate, il residuo dell'energia, quella che non riuscite a consumare, finisce in rete ma viene utilizzata all'interno della comunità dagli altri. La comunità energetica si fonda sul fatto di combattere la povertà energetica. Questo con due sfaccettature. La prima riguarda proprio la mancanza energetica, la mancanza di energia. Quindi il poter produrre energia in loco e autoprodurre ognuno di noi e fare ognuno di noi la propria parte va a combattere questa necessità. L'altro è proprio un aiuto sociale alle famiglie, alle associazioni, ai bisognosi che farà sì che una parte dei proventi verranno destinati proprio a questo sostegno. E pensate che la regione Lombardia, che è stata la prima regione a livello italiano che da subito ci ha messo 23 milioni di euro a disposizione della Costituzione delle stesse per pagare le progettazioni e quelli che sono gli atti notarili e quant'altro ha nei suoi parametri per partecipare e concorrere a questo bando e l'amministrazione assieme a noi si sta adoperando proprio per questo ha proprio dei concetti sociali, dei concetti di condivisione sociale di ricaduta sul territorio di questa nuova attività che si viene a creare. Il che vorrà dire una previsione anche occupazionale minima ma anche di poche ore iniziali di sviluppo e di inserimento di persone che necessitano di fare delle attività lavorative.